A distanza di 14 anni dall'uscita della prima pellicola relativa alla saga di Harry Potter, le avventure del maghetto e dei suoi amici Ron e Hermione continuano ad emozionare grandi e piccini e ottenere successi in termini di Auditel e non solo. Sabato 16 maggio, infatti, Italia 1 ha trasmesso il primo capitolo, Harry Potter e la pietra filosofale, e in me che non si dica è entrata nei top trend dei Twitter. Moltissimi, per esempio, gli utenti che continuano anche in queste ore a cinguettare e che per i prossimi sette sabati non usciranno di casa proprio per vedere Harry Potter. Daniel Radcliffe, uno tra gli attori under 30 più pagati al mondo, e Emma Watson, che ha lavorato anche con Sofia Coppola, noi sappiamo sono gli attori che hanno continuato con maggior successo il percorso nel mondo dello spettacolo, ma ve li ricordate da piccoli insieme agli altri protagonisti? Sono cambiati moltissimo. E chissà che ai più nostalgici non scenda una lacrimuccia a vedere queste fotografie.